Ciao e benvenuto in questo video per trasmetterti calma, tranquillità e rilassamento ASMR. Lascia che spazzoli delicatamente i tuoi capelli, guarda quanto è carina questa spazzola, è una faccina sorridente e profuma. Di pesca, pesca. Io adoro la sensazione della spazzola sui capelli, così. E' prevedevole. Allora lascia che lo pezzino i tuoi meravigliosi capelli. Non importa se sono lunghi o corti, splendenti o fragili. Perché sono bellissimi i tuoi capelli. Perché sono i tuoi capelli. E tu sei una bellissima persona. Lasciati coccolare. Così. Lasciati pettinare questi bellissimi capelli. A volte ci vuole un piccolo momento di calma totale, di coccole. e tu sei una persona speciale. E meriti tutta la calma e la tranquillità nel mondo. E senti questa spazzola che ti pettina dolcemente, che ti dà quei piccoli brividi sul cuoio capelluto. Quelli che cerchiamo così tanto. Quella sensazione confortevole. Uno stato di perfetto rilassamento. Uno stato di perfetto rilassamento. di presenza. Focalizzarti solo su questo momento speciale. Un momento solo per te. Un momento per prenderti cura di te. Perché lo meriti. E se non ti sei concesso questo momento prematuro. Magari è passato il secondo piano. Adesso è il momento di rimediare. Perché è importante prenderti cura di te. Coccolarti. Concederti un piccolo sfizio. E a volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci conforti. Qualcuno che ci coccoli delicatamente. Senti che odore squisito. E adesso lascia che accarezzi il tuo bellissimo viso. Un piccolo massaggio sulle tempi. Con movimenti circolari. Un massaggio del cuoio capelluto. Così. Lascia che inizi a massaggiare. Così. L'adventura sulleå. i tuoi capelli. Il tuo cuoio capelluto. Il tuo cuoio capelluto. Lascia che io massaggi... Il tuo cuoio capelluto. Così. Non sempre auguri. Parcellente. Ok. Ora tubervi signingare. Adesso or���rate. Per poi passare alle tempie e senti tutta l'attenzione della giornata andare via, questi movimenti circolari. Lascia volar via tutte le preoccupazioni e massaggio anche qui quest'area delle sopracciglia che quando fa un po' più freddo diventa così sensibile e l'area dei tuoi zigomi è di nuovo su. Così, piccoli movimenti, piccoli piccoli movimenti e poi già su quest'area delle zigomi, delle golze. Rilassati, rilassati completamente. Continuo con piccole carezze. Carezze rilassanti che portano via tutte le preoccupazioni. Ti lasciano sereno, in pace. Sei una bellissima persona. Forse non ti è stato detto abbastanza. E allora lascia che te lo dica io. Sei una bellissima persona. Sei capace di fare qualunque cosa. Credi in te. Ultimamente riflettevo che nella vita si può avere quanto talento. Poi, tutto il talento del mondo, ma se non abbiamo la determinazione di lavorare per ciò che desideriamo, allora quel talento va svegato. Ed è per questo che devi resistere. Devi credere nelle tue forze. Superare i tuoi limiti ogni giorno. Perché andrà tutto benissimo. Devi credere in te. E la forza dei tuoi sogni, di quello che ti appassiona. E lavorare con costanza per raggiungere i tuoi obiettivi. Perché ne sei capace. E ce la puoi fare. Sei una meravigliosa persona. Piena di capacità. Andrà tutto benissimo. Credo in te. E adesso riposa. Adesso rilassati. E senti questa incredibile determinazione e forza dentro di te. Calma. Con la calma. È possibile ottenere quello che sogni, quello che ti proponi. Perciò è così importante questo piccolo momento per te. Grazie di essere così speciale. Grazie di essere così speciale. Grazie di essere così speciale. No Grazie a tutti.